E salve a tutti ragazzi, oggi in questo nuovissimo video, giochiamo a Call of Duty World to World 2, postazione zombie Aspettiamo che si carichi Dico qua Postazione Grazie a tutti buona portazione, muoversi già il primo nemico ha battuto ecco qua, già i tizi che sputano sangue cosi dei bombi sono appena arrivati ma io ne ho un'arma perfetta per voi ecco qua eh ritornerò, zombazzo ritornerò ecco qua eh al carro in giame nuova portazione muoversi nuova portazione contro la postazione nuova portazione scuola non ma Cosa? Dove stanno? No! Via, via! No, mi voglio vedere, via, via, via! Via, 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 via! con calma mister squalo ehi 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 sfranghele 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 ehi 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 ok quanti costante ore io anche posso manca su tutto la mamma mia la mamma mia la musica e quanti ne siete capito che voglio ammazzare però una a uno con calma adesso lancio questa bella cammatella oh attenzione lancia fiammista attenzione 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 no pensavo che ero mio alleato pensavo che ero mio amichetto postazione costruistata non so eeeh postazione mia benzina postazione 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 o postazione 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 e lui e lui e lui è un altro granata o in maniera non c'è stato un po' se non lo ha un giocatore se lo tiene ecco qua sto sparando ma questo non cade a terra e cadi oddio mio mamma mia che paura questo tipo che fa un contenitore un po' fate gli zombie in modo civile e vattene mamma mia c'è pure poche munizioni ti ha detto questo? si capisce quello che dico parlate di leano il padre italiano la domanda il maria la 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 l il 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 questa è un zombarsi, ecco qua ecco qua questa è un attimo non ho capito non ho capito ecco peglia questo aspetta amichetto ecco qua mamma per l'amanzato aia me l'ho fatto male molto male vedete vedete nuova nuova postazione muoversi postazione in mano polizio aia 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 Aereo via partito vince anche a questi versaggi Mamma mia quanti che sono C'è ora un amico, eh eccolo Aish Non c'è poco tempo Tuttanto per il prossimo video che facciamo su Call of Duty World War 2 Quale modo te lo faccio? Se lo scrivete nei commenti Adesso questo è un video del presente Vi ho detto ma c'è squadra o che possa funzionare La maggioranza dice La maggioranza La maggioranza La maggioranza Perché ho preso con l'intrazione? Perchè ho preso con l'intrazione? Tutto E niente Sono sconfitti Vabbè, sai Ecco qua, eh? Ma questo qua che check in a tutti Il master proprio E vabbè ragazzi Se questo video vi è piaciuto Potete anche iscrivervi E lasciare la campana Elena Per non perdere i prossimi video E ci vediamo al prossimo video Ciao